Queste settimane a cavallo dei due anni sono state per il basketeggiare una vera e propria corsa agli armamenti e agli allenamenti. Parallele infatti alle vicende del campo, con la paventata sistemazione nell'immediato futuro del Palacannavò, ci sono le vicende di campo. Queste sere infatti già si gioca per la C-Silver. Nel turno infrasettimanale che apre il 2018 al basketeggiare di Coci Ignazio D'Angelo rende visita l'altra neopromossa, la Libertas Alcamo. Si tratta della seconda giornata di ritorno con l'andata che in terra trapanese è finita a 77-89. Lo scorso 17 ottobre ci fu una grande prova di carattere e forza dei Gelo Blu, sempre in vantaggio per tutta la partita, con Riccardo Arcidiacono e Claudio Casiraghi sugli scudi. E la prima vera prestazione ottima di Federico Motta, tutti i protagonisti pronti e arruolabili per questa sera. L'obiettivo, manco a dirlo, sono altri due punti per salire a quota 12 in classifica e staccare tra le altre proprio la squadra alcamese. Al Palacannavò, con inizio alle ore 20, ci potrebbe essere anche l'esordio stagionale di Alfio Spadaro, che in queste settimane sotto le feste si è allenato regolarmente con il gruppo. Con un 2017 che non è finito nel migliore dei modi, la speranza e soprattutto la volontà della società Gelo Blu è iniziare il 2018 con il piede giusto, ovvero con una vittoria.